Affrontare in via definitiva in termini oggettivi mediante l'accertamento tecnico di competenza dell'ARPAC l'allarme sociale generato dal cattivo odore che proviene dalle fonderie Pisano. A chiederlo è direttamente il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che questa mattina ha inviato una comunicazione all'ARPAC, al Dipartimento Provinciale di Salerno, ma anche all'ASL, al Dipartimento di Prevenzione proprio in merito alle fonderie Pisano. Come si legge nella lettera, quotidianamente scrive il sindaco, l'amministrazione comunale di Salerno riceve segnalazioni relative a emissioni maleodoranti provenienti dalle fonderie Pisano. Attraverso proteste e segnalazioni continue i cittadini chiedono una soluzione. Il sindaco Napoli fa riferimento ad un vero e proprio allarme sociale perché pare, scrive, siano ormai stati superati i livelli di tollerabilità consentiti. L'uso di strumenti eccezionali richiesti può essere giustificato solo laddove manchino strumenti ordinari ed adeguati alla soluzione della problematica ambientale. Fa notare Napoli che invita l'ARPAC dunque ad effettuare gli accertamenti degli sforamenti dei valori limiti di omissione delle concentrazioni od origine. Nel caso appunto ciò venga verificato, bisogna provvedere con ogni urgenza ad adottare interventi conseguenziali idonei a ripristinare condizioni di normalità al fine di scongiurare qualsiasi pericolo per la cittadinanza. Grazie a tutti.